addio a mario draghi cioè lo salutiamo nel senso che è fuori dal quirinale ed è fuori da palazzo chigi torna a fare il pensionato in umbria vediamo questo scenario di oggi 8 dicembre cioè oggi 9 dicembre del 2021 dicono che Sergio Mattarella è stato un grande presidente e io mi sto chiedendo in questi giorni perché voi avete una risposta io ce l'ho la risposta di chi dice che è stato un grande presidente perché ha fermato volontariamente o involontariamente il governo Salvini 1 dicendoci Ceccovidi non si può votare mi dispiace veramente mi dispiace di cuore ma non si può votare sei quattro cinque minuti di applausi dicono i vari giornali gli gridavano alla scala bis 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 e voi direte ma perché cosa ha fatto Sergio Mattarella e ha detto Ceccovidi non si può votare questa frase è stata la più importante dei suoi sette anni Ceccovidi non si può votare mi dispiace vi mando mario draghi fine dei sogni di Salvini premier come c'è scritto nel suo logo di partito lega per per Salvini premier con Mattarella che dice mi dispiace Ceccovidi non si può andare a votare è finita la carriera da presidente del consiglio di Salvini questo forse è questo il motivo per il quale dicono che è stato un grande presidente perché io altri non li ricordo magari ha fatto delle cose eccezionali ma non le ricordo perché il presidente della repubblica che deve fare più che fare il discorso di fine anno firmare le leggi e poi non so grande presidente cosa vuol dire non si sa non si può prevedere intanto che cosa succederà al Quirinale sarà decisiva la volata finale il rischio è che Draghi non venga eletto presidente e resta su un governo che dura poco con Draghi tolto da tutti i ruoli della politica italiana non è presi non è senatore a vita non è un parlamentare si candida per il Quirinale ma viene bocciato viene bocciato viene bocciato perché magari i partiti non lo votano perché lui vuole rimanere vuole andare al Quirinale i partiti no devi rimanere qua perché sennò poi cade il governo noi abbiamo bisogno di mantenere lo stipendio per un po di tempo quindi Draghi che si propone al Quirinale bocciato Draghi che dice ah sì mi avete bocciato allora adesso io do le dimissioni e vi sistemo io come dire voi non mi mandate al Quirinale perché volete che resto a Palazzo Chigi per evitare le elezioni anticipate ma io vi frego tutti scacco matto do le dimissioni io me ne vado io non al Quirinale ma ne me ne torno a casa andate tutti a quel paese questo potrebbe essere cosa succede che poi si avvicinerebbe di nuovo il voto anticipato quindi il rischio che se è questo che se Draghi non va al Quirinale sparisce dalla politica italiana né Quirinale né presidenza del consiglio né senatore a vita perché mi spiegate quanto gliene può fregare de meno a Mario Draghi o con la sua età e la sua pensione di fare il senatore a vita che fa si trasferisce a Roma per andare a fare le votazioni al senato senatore a vita non ha partito quindi diventi diventi un autonomo della politica quasi una partita iva della politica ci sono le votazioni e tu zitto zitto ti incammini suoni il campanello sono il senatore a vita Draghi devo votare ah sì passi prima porta a destra seconda sedia rossa a sinistra diventa anche non so un senatore a vita dopo una carriera una vita essere chiamato ogni volta per andare a votare al senato è tutto qui quindi lui dovrebbe trasferirsi a Roma per fare il senatore a vita per prendere una pensione che probabilmente c'è la più alta lui già di suo secondo me potrebbe letteralmente sparire dalla politica Goffredo Bettini il monaco del PD interviene su sky tg24 e parla della partita del Quirinale dice Mattarella è stato pilastro dell'equilibrio repubblicano ah si chiama così? C'è Covid di non possiamo votare si chiama pilastro dell'equilibrio repubblicano o si chiama il PD alla fine è riuscito anche questa volta a rimanere al governo senza aver vinto le elezioni? e lui invece io ve la racconto così mentre Bettini dice Mattarella pilastro dell'equilibrio repubblicano e la sua elezione è stata alla fine un'iniziativa molto indovinata e positiva innanzitutto di Renzi che ha assicurato all'Italia un presidente che non era considerato un predestinato ma ha una lunga storia democratica e quella mossa ha aperto un periodo di stabilità una lunga storia democratica cioè nel senso vicino al PD e quello è la lunga storia democratica sta di fatto magari mi sbaglio magari sono io che voglio vedere le cose in un certo modo ma secondo me tutti questi elogi di questo grande presidente che io non vedo sono solo esclusivamente dal fatto che ha detto la frase che lo ha incoronato come una leggenda per la sinistra non possiamo andare a votare c'è Covid di vi mando Draghi fate i bravi mi raccomando col professore tutto lì quella frase quell'intervento di Mattarella che parla alla relazione dice mi dispiace non si può votare mi sarebbe piaciuto ma purtroppo non si può dice ma abbiamo votato alle regionali e c'è Covid di ma voteremo poi alle amministrative in primavera e c'è Covid di cosa vi devo dire non si può votare la conseguenza di questo non si può votare è stato evitare avere evitato appunto il governo molto probabilmente quasi al 100% il governo Salvini 1 governo Salvini 1 io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata siamo anche nell'altro canale che si chiama teleitalia seconda rete dove trovate video di politica ma non solo e poi e poi ci sono anche ci sono anche c'è anche la pagina di facebook dove trovate questi video di teleitalia e teleitalia seconda rete condivisi dopo qualche ora in modo che se vi sono interessati li potete a vostra volta condividere sui vostri profili i video li potete condividere anche sui vostri canali anche youtube c'è c'è condividi e appare nella vostra community del canale per esempio proprio oggi ho visto che un canale ha ha condiviso un mio video grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti